È in edicola Jumbo Jet per tutti. Costruisci settimana dopo settimana il gigante dei cieli in scala 1 a 1. Con la prima delle 357.000 uscite, la tua richiesta di aspettativa e una vite in omaggio. Questa raccolta è offerta dall'aceto balsamico di Modena IGP Monari Federzoni. Un nome lungo, come la sua storia.